salve a tutti da willis spluffete e benvenuti al nostro canale mi raccomando iscrivetevi e attivate la campanellina buona visione a tutti ciao salve a tutti da willis andrete a vedere un video eccezionale chantal in una delle sue mitiche performance ecco a voi la performance un video Grazie a tutti.